Federazione Italiana Palla Tamburello. La passione per lo sport del tamburello è nata in lui nel 1959 che fu un'annata storica per la squadra goitese che vinse il suo secondo titolo di campione nazionale di prima serie, l'attuale serie A. Da allora Cartapati ha seguito sempre le vicende della squadra del suo paese, di forti tradizioni sportive. Dal 75 all'80, nella sua carica di assessore comunale, si impegnò per la realizzazione dei nuovi campi di tamburello di Goito e della frazione Sacca. Negli anni 91-98, nella sua qualità di sindaco del comune di Goito, promosse e realizzò il nuovo impianto di illuminazione del campo di Goito, capoluogo, e realizzò il nuovo campo di frazione Cerlongo. Nel 1999, dopo l'approvazione del nuovo statuto per renderlo conforme a quello delle altre federazioni riconosciute dal CONI, Cartapati è stato eletto presidente del comitato regionale di nuova istituzione, carica nella quale è stato poi riconfermato fino ad oggi. Come presidente del comitato regionale, si è molto impegnato per lo sviluppo e il miglioramento dell'organizzazione sportiva del tamburello, con una particolare attenzione al settore giovanile. Forte e costante è stata la sua collaborazione del comitato, presieduta da Cartapati con le società lombarde e con i comitati provinciali. Il 26 novembre 2016, nell'assemblea tenuta a Gui di Zoro, con voto unanime delle società presenti e rappresentate, Enzo Cartapati è stato riconfermato per la sesta volta nella carica di presidente regionale per il quadriennio 2016-2020. Grazie mille. Grazie mille.